Un circolo privato di Olbia, classificato dalla normativa fiscale come associazione di carattere volontario, non a scopo di lucro e chiave come finalità principale la promozione, valorizzazione e diffusione del patrimonio gastronomico locale, è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza del gruppo di Olbia e del Comando Provinciale di Sassari per evasione fiscale. L'associazione avrebbe occultato all'erario ricavi per 200.000 euro, cui corrisponde un'imposta di 70.000 euro e non versato IVA per 23.000 euro. L'attività ispettiva di Militaria ha permesso di accertare che l'associazione veniva gestita come una vera e propria impresa commerciale a scopo di lucro, sottraendosi così agli obblighi fiscali operando in totale evasione d'imposta per gli anni 2013, 2014 e 2017. Le fiamme gialle hanno scoperto che il circolo privato che operava nel campo della somministrazione di alimenti e bevande in relazione alle più elementari norme tributarie non teneva la contabilità della propria attività commerciale. E' un rappresentato, tranne che per il 2015 e 2016, per i quali è stata inoltrata la dichiarazione per enti non commerciali, il modello dichiarativo dei redditi percepiti, palesandosi così nei confronti all'erario quale evasore totale. Al termine dell'attività ispettiva, i finanzieri hanno segnalato la posizione del circolo di Ulbia all'Agenzia delle Entrate Competente. Sono state inoltre constatate violazioni alla normativa tributaria in tema di regolare tenuta dalla contabilità.